Formazione specifica, basso rischio. Decreto legislativo 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Video terminali, periferiche, scivolamento e altri rischi. Benvenuto in questa nuova lezione del corso di formazione specifica Basso rischio. In questa lezione esamineremo alcune attrezzature, divenute indispensabili in ogni luogo di lavoro. I video terminali, per estensione ogni computer dotato di monitor, e le periferiche collegate ad essi, in particolar modo le stampanti, le fotocopiatrici e i loro materiali di consumo, toner. Esamineremo i rischi legati al loro utilizzo e la buona prassi che consente di evitare i pericoli. Andremo poi ad esaminare i rischi collegati a particolari situazioni che si possono verificare, il rischio di scivolamento e i rischi collegati all'utilizzo di scale portatili e alla movimentazione manuali dei carichi. Iniziamo! La normativa. Definizioni. Il Decreto Legislativo 81 del 2008, al titolo VII, si occupa delle attrezzature munite di video terminali, provvedendo a fornire definizioni e a stabilire gli obblighi che derivano dall'uso delle stesse. Facendo riferimento all'articolo 173, riportiamo alcune importanti definizioni. Per video terminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Per posto di lavoro si intende l'insieme che comprende le attrezzature munite di video terminale, eventualmente con tastiera, ovvero altro sistema di emissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante. Il lavoratore è colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali. Alla successivo articolo 174 vengono definiti gli obblighi del datore di lavoro che comprendono la valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi per la vista e gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, l'adozione di appropriate misure per ovviare ai rischi, la predisposizione di posti di lavoro conformi ai requisiti minimi normati nello stesso testo unico. Tutti i lavoratori che utilizzano videoterminali devono conseguentemente essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista e gli occhi, oltre che per l'apparato muscolo-scheletrico. Le visite di controllo sono biennali, salvo casi particolari che necessitino di frequenze diverse stabilite dal medico competente. La legge stabilisce anche che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un'adeguata formazione e informazione che riguardi l'uso dei videoterminali, tenendo conto anche delle postazioni di lavoro e di tutti i rischi collegati. Lo stesso testo unico, al successivo articolo 175, stabilisce le modalità di utilizzo dei videoterminali con particolare riferimento alle pause di lavoro. I lavoratori hanno diritto a una interruzione della loro attività mediante pause o cambiamenti di attività che devono rispettare i seguenti requisiti. La pausa dovrà essere di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale. È esclusa la cumulabilità delle pause con l'inizio e il termine dell'orario di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. I requisiti delle attrezzature. Piani di lavoro e sedili. Nell'allegato 34esimo al Decreto Legislativo 81 del 2008 vengono stabiliti i requisiti minimi delle attrezzature, esaminando nel dettaglio il piano di lavoro, le sedie, il computer, nei suoi componenti, affinché si evitino disturbi oculovisivi e muscoloscheletrici. Vediamo in dettaglio il piano di lavoro e il sedile. Il piano di lavoro. Deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. L'altezza del piano di lavoro, fissa o regolabile, deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. Il sedile di lavoro. Deve essere stabile, con 5 razze, piedi e ruote, e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile, in maniera indipendente dallo schienale, e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorsolombare dell'utente. Pertanto, deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni, l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. I requisiti delle attrezzature. Il computer. L'uso delle attrezzature non deve essere fonte di rischio e pericolo, per cui tutte le attrezzature dovranno garantire adeguati standard. Andiamo nello specifico parlando dei componenti del videoterminale. Lo schermo. La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillanza e o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. Tastiera e dispositivi di puntamento. La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza, onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato al suo uso. Nel caso vengano utilizzati dei computer portatili, sarà necessaria la fornitura di tastiera e di dispositivi di puntamento esterni, oltre che di idoneo supporto per il corretto posizionamento dello schermo. Qual è la posizione corretta durante il lavoro al computer? Vediamolo insieme. Per garantire il migliore comfort possibile durante il lavoro mentre si utilizza il PC, è necessario che il piano della scrivania sia all'altezza dei gomiti. Lo schienale della sedia con supporto lombare permetta di mantenere le curve fisiologiche della colonna vertebrale. L'altezza della sedia sia tale da permettere la formazione di un angolo di 90 gradi tra coscia e gamba. Il monitor sia posizionato in modo che la linea orizzontale degli occhi sia leggermente più elevata del bordo superiore del monitor e a una distanza di 50-70 cm. La non applicazione di tali regole può causare problemi, pertanto occorre evitare che le gambe siano troppo avanti o indietro rispetto alla posizione giusta, ossiano incrociate o accavallate. Che il busto sia inclinato in avanti o indietro, oppure sia inclinato lateralmente, creando stress agli elementi della colonna vertebrale. Infine, vediamo in sintesi come occorre disporre le apparecchiature in funzione dell'illuminazione ambientale. Il monitor va posizionato ortogonalmente rispetto alle finestre. La finestra non deve trovarsi né dietro né di fronte all'operatore. Bisogna utilizzare l'illuminazione artificiale qualora la luce naturale non basti. Occorre regolare l'illuminazione in modo da avere un contrasto adeguato tra schermo e ambiente circostante, anche con l'uso di tende, frangisole, ecc. Le stampanti, le fotocopiatrici, i toner Le fotocopiatrici e le stampanti con tecnologia laser attualmente sono presenti in tutti gli uffici e benché le loro emissioni nell'ambiente siano al di sotto dei valori limite prescritti dalla normativa, possono creare disturbi in persone ipersensibili, dovute agli effetti irritativi delle emissioni, che in rari casi possono trasformarsi in vere allergie. Tra le sostanze emesse da tali apparecchiature possiamo avere polveri, composte in gran parte dalla normale polvere presente negli ambienti con l'aggiunta di particelle di carta e toner. Ozono, che si sviluppa in piccole quantità nelle apparecchiature che funzionano con meccanismi elettrostatici, stampanti laser e assimilabili, che in grandi concentrazioni è tossico per il corpo umano. Materiale carbonioso, sviluppato dal processo di fusione del toner sulla carta. La SUVA, Cassa Nazionale Svizzera di Assicurazione contro gli Infortuni, ha dettato delle raccomandazioni da ritenere sempre valide. Riportiamo di seguito alcune misure generali da osservare nella normale attività d'ufficio. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso. Collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato. Installare le apparecchiature di elevata potenza in un locale separato e installare un impianto di aspirazione locale. Non direzionare le bocchette di scarico dell'aria verso le persone. Eseguire regolarmente la manutenzione delle apparecchiature. Optare per sistemi di toner chiusi. Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore e non forzare l'apertura. Rimuovere con un panno umido le tracce di toner. Lavare con acqua e sapone le parti di pelle sporche di toner. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti. In caso di contatto con la bocca, sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Non utilizzare acqua calda o bollente, altrimenti il toner diventa appiccicoso. Eliminare con molta cautela i fogli inceppati per non sollevare polvere. Utilizzare guanti monouso per ricaricare il toner liquido o in polvere. In caso di guasti, manutenzione e riparazione, possono verificarsi emissioni di polvere di toner. Pertanto bisognerà adottare alcune importanti misure, quali pulire gli apparecchi con un aspiratore certificato, non usare getti d'aria e evitare di soffiare nell'apparecchio. Qualora si tema una notevole emissione di polveri, garantire una buona ventilazione, utilizzare un respiratore antipolvere con livello di protezione FFP2 e cambiarlo regolarmente dopo un periodo di poche ore si diventa umido, si danneggia o viene direttamente a contatto con la polvere di toner. Indossare gli occhiali di protezione. Una volta terminata la manutenzione, pulire con un panno umido la zona attorno all'apparecchio. Indossare guanti di protezione adeguati, tenendo conto anche del tipo di detergente utilizzato. Nel caso i dipendenti presentino dei disturbi legati all'ambiente di lavoro, questi devono essere considerati seriamente, adottando provvedimenti per migliorare l'igiene dell'ambiente di lavoro, fino a considerare la possibilità di sostituzione degli apparecchi con modelli più moderni o con tecnologia diversa, ad esempio a getto d'inchiostro. Il rischio di scivolamento è in ciampo. Nella normale attività lavorativa è normale doversi spostare da una postazione di lavoro a un'altra e spesso avviene trasportando materiali o freneticamente. Moltissimi incidenti sono causati dallo scivolamento o da inciampi. Analizziamoli meglio. Per scivolamento si intende uno scorrimento su una superficie a causa della mancanza di aderenza tra il pavimento e la persona. In tali condizioni si genera una differenza di velocità tra il corpo e le gambe della persona che può portare alla perdita di equilibrio e alla caduta. Tra le principali cause dello scivolamento ne ricordiamo alcune. Superfici calpestabili inidonee realizzate con materiali scivolosi che non garantiscono un adeguato attrito. Superfici bagnate, in genere da acqua, ma potrebbero esserlo anche da oli o altri liquidi. Mancanza di segnalazione, in fase di pulizia, delle superfici bagnate. Calzature inadeguate. L'inciampo si ha quando, mentre si procede camminando, il piede viene bloccato da qualche ostacolo, rimanendo fermo, mentre la restante parte del corpo, per inerzia, continua nella direzione percorsa. Tra le maggiori cause da considerare possiamo ricordare le seguenti. Dissesto delle pavimentazioni con presenza di dislivelli, mattonelle rialzate, scalini, crepe, buche, eccetera. Materiali mal posizionati lungo i percorsi. Sportelli o cassetti non chiusi bene, che si aprano inopportunamente. Presenza di cavi volanti, posizionati incorrettamente. Cattiva illuminazione e mancato segnalamento di ostacoli, che non possono essere rimossi. Oltre queste cause, occorre considerare le condizioni psicofisiche e le condizioni di lavoro. La stanchezza e la fretta portano a maggiori probabilità di incidenti, con conseguenti infortuni. Oltre che l'adeguata conoscenza dell'ambiente di lavoro di tutto il personale. Per garantire la sicurezza, il Decreto legislativo 81 del 2008, all'Allegato IV, dispone che le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione, non corrono alcun rischio. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. Quando, per evidenti ragioni tecniche, non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Per una completa lista dei requisiti si può consultare il già citato allegato quarto del Decreto legislativo 81 del 2008. Riepilogando, possiamo ricordare che, per quanto riguarda la parte strutturale dei percorsi e dei suoi danni, la competenza rimane del datore di lavoro che dovrà assicurare che abbiano i requisiti minimi richiesti. Il lavoratore dovrà comunque collaborare per conservarne il buono stato, oltre ad evitare di creare situazioni pericolose, ad esempio versamento di liquidi senza provvedere alla risoluzione del problema, chiusura con blocco di cassetti ed ante, ecc. Le scale portatili Esaminiamo ora l'utilizzo delle scale portatili che, anche se non vengono utilizzate usualmente in ufficio, vanno accennate quantomeno per analizzarne i pericoli derivanti. La scala va utilizzata quando si devono raggiungere oggetti posti in quota che normalmente non sono raggiungibili, ad esempio per prelevare o riporre faldoni e documenti. Per fare questo, in sicurezza, si dovrà 1. Aprire e posizionare stabilmente la scala. 2. Salire e scendere la scala con il volto rivolto verso di essa. 3. Mantenere il baricentro senza sbilanciarsi lateralmente per evitare il ribaltamento della scala. 4. Porre sempre attenzione quando si svolgono attività con scale portatili. Inoltre, vanno ricordate alcune regole. Verificare la conformità della scala alle norme 1. IN 131, come previsto nell'allegato ventesimo del Decreto legislativo 81 del 2008. Verificare che l'utilizzo della scala sia conforme alle procedure aziendali. Verificare ogni volta che si utilizza una scala il suo buono stato. Utilizzarla seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Ogni scala viene fornita di una scheda in cui vengono indicate, tramite pittogrammi facilmente interpretabili, le misure di prevenzione da adottare. Vediamo un esempio. La movimentazione manuale dei carichi consiste nelle attività di trasporto e sostegno di un carico ad opera di una o più persone. A questa attività possiamo ricondurre il sollevamento, la deposizione, il tirare, lo spingere, il portare o lo spostare un carico. In un ufficio, ad esempio, si può considerare il sollevamento e il trasporto di faldoni, scatole o di macchinari, ad esempio stampanti. Ogni volta che viene svolta, si corre il rischio di incorrere in patologie a carico del corpo umano, in particolar modo a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. Le situazioni pericolose si possono generare quando il peso supera il limite di 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, quando il carico è in equilibrio instabile o quando è ingombrante, difficile da maneggiare o di forma irregolare. Tra i vari problemi che si possono riscontrare nella movimentazione dei carichi vi sono lesioni dorsolombari per sovraccarico biomeccanico, mal di schiena, a carico di muscoli, tendini, ossa, eccetera. Schiacciamento di mani e piedi in caso di caduta del carico. Vediamo alcune regole da rispettare per spostare oggetti ingombranti o pesanti. Avvicinare l'oggetto al corpo ed evitare di tenerlo lontano durante lo spostamento. Non ruotare solo il tronco, ma utilizzare gli arti inferiori per girare tutto il corpo. Cercare di spostare gli oggetti nella zona compresa tra l'altezza delle spalle e l'altezza delle mani quando si tengono le braccia distese lungo il corpo. Nel caso in cui si debba sollevare maggiormente gli oggetti, utilizzare le scale portatili. Quando si deve sollevare un carico, non piegare la schiena mantenendo le gambe dritte, ma piegare le ginocchia e mantenere dritta la schiena. Non esagerare e strafare, ma agire con il proprio ritmo garantendo i fisiologici tempi di riposo. Vediamo ora un video che ci consiglia in modo chiaro e semplice quali siano le posture da assumere nell'ambiente di lavoro per evitare problemi muscoloscheletrici. Buona visione! Se lavoriamo seduti, è consigliabile che l'altezza del tavolo consenta che i gomiti siano appoggiati sul piano ad angolo retto, che l'eventuale monitor del computer sia posizionato ad una distanza di circa 50-70 centimetri e ad altezza occhi, in modo da non dover piegare il collo, sedersi in fondo alla sedia appoggiando bene la parte bassa della schiena allo schienale, regolare l'altezza della sedia in modo da appoggiare i piedi a terra o eventualmente su un rialzo, usare i braccioli per rilassare le spalle e alleggerire il carico sulla colonna vertebrale, evitare di stare seduti troppo a lungo e nella stessa posizione. Se lavoriamo chinati verso il basso, è consigliabile non flettere la schiena, ma piegare le ginocchia e mantenere la posizione accovacciata o in ginocchio, a cavalier servente. Se dobbiamo sollevare un peso, è consigliabile evitare di tenere le gambe diritte e di piegare la schiena. Piegare invece le ginocchia, sollevarsi utilizzando la forza delle gambe e mantenere le curve fisiologiche del rachide, scaricando il peso a livello degli arti inferiori. Tenere il peso il più vicino possibile al corpo. Se dobbiamo spostare lateralmente un oggetto, è consigliabile evitare di tenere le gambe e di fare un movimento di torsione del tronco, ma avvicinare l'oggetto al proprio corpo. Mantenere la corretta postura della schiena e ruotare su se stessi, effettuando piccoli passi in senso circolare. Se dobbiamo trasportare pesi, è consigliabile non sovraccaricare un solo lato tenendo il peso solo da una parte per non sollecitare in modo asimmetrico i dischi intervertebrali. Distribuire invece i pesi in uguale misura e su entrambi i lati, oppure trasportare il peso sulla schiena, zaino, se non troppo pesante. Tutto chiaro? Allora passiamo alla nostra verifica di apprendimento. Challenge time! È arrivato il momento di una piccola sfida. Osserva con attenzione l'immagine che ti proponiamo e individua le posizioni errate. Attenzione, hai solo 60 secondi di tempo. Sei pronto? Allora, via! 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 Hai individuato tutti gli errori? Vediamolo insieme. Nell'immagine possiamo riscontrare uno scorretto allineamento del rachide cervicale con profusione delle spalle e una perdita della lordosi cervicale fisiologica. Una riduzione dell'angolo di 90 gradi delle braccia. L'assenza del supporto lombare e la perdita della curva fisiologica lombare. Le gambe posizionate a 45 gradi anziché a 90 gradi. I piedi non appoggiati al pavimento. Ottimo! Facciamone un altro! Challenge time! Abbiamo trattato dei vari rischi a cui può andare incontro un lavoratore. Li ricordi? Osserva bene la seguente immagine e individua i comportamenti scorretti che si potrebbero verificare in ufficio. Attenzione! Hai solo 60 secondi di tempo. Sei pronto? Allora... Via! 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 Grazie a tutti. Li hai individuati tutti? I comportamenti scorretti sono l'emissione di polveri e fumo da stampanti e fotocopiatrici, lasciare aperti i cassetti e ante degli arredi, il mancato segnalamento di pavimenti bagnati senza provvedere all'asciugatura, l'utilizzazione di cavi elettrici volanti che possono creare motivo di inciampo. Benissimo, possiamo procedere con il riepilogo di quanto trattato in questa lezione. Rivediamo in sintesi i principali argomenti affrontati in questa lezione. Abbiamo esaminato alcune attrezzature indispensabili in ogni luogo di lavoro. I videoterminali, per estensione ogni computer dotato di monitor, e le periferiche collegate ad essi, in particolar modo le stampanti, le fotocopiatrici e i loro materiali di consumo. Toner. Il decreto legislativo 81 del 2008, al titolo VII, si occupa delle attrezzature munite di videoterminali, provvedendo a fornire definizioni e a stabilire gli obblighi che derivano dall'uso delle stesse. Facendo riferimento all'articolo 173, abbiamo riportato alcune importanti definizioni. Videoterminale. Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Posto di lavoro. L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera, ovvero altro sistema di emissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante. Lavoratore. Colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali. Alla successivo articolo 174 vengono definiti gli obblighi del datore di lavoro, che comprendono La valutazione dei rischi con particolare riguardo ai rischi per la vista e gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, L'adozione di appropriate misure per ovviare ai rischi, la predisposizione di posti di lavoro conformi ai requisiti minimi normati nel testo unico. Abbiamo quindi analizzato il successivo articolo 175, che stabilisce le modalità di utilizzo dei videoterminali con riferimento alle pause di lavoro, pause o cambiamenti di attività che devono rispettare i seguenti requisiti. La pausa dovrà essere di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale. È esclusa la cumulabilità delle pause con l'inizio e il termine dell'orario di lavoro. La pausa è considerata tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Siamo passati quindi a porre in evidenza tutti i rischi legati all'utilizzo delle attrezzature e la buona prassi, che consente di evitare i pericoli per poi esporre i rischi collegati a particolari situazioni che si possono verificare. Il rischio di scivolamento all'utilizzo di scale portatili e quelli collegati alla movimentazione manuale dei carichi. Analizzando i problemi legati alla movimentazione dei carichi, abbiamo illustrato le regole da rispettare per spostare oggetti ingombranti o pesanti. Avvicinare l'oggetto al corpo ed evitare di tenerlo lontano durante lo spostamento. Non ruotare solo il tronco, ma utilizzare gli arti inferiori per girare tutto il corpo. Cercare di spostare gli oggetti nella zona compresa tra l'altezza delle spalle e l'altezza delle mani, quando si tengono le braccia distese lungo il corpo. Nel caso in cui si debba sollevare maggiormente gli oggetti, utilizzare le scale portatili. Quando si deve sollevare un carico, non piegare la schiena mantenendo le gambe dritte, ma piegare le ginocchia e mantenere dritta la schiena. Non esagerare e strafare, ma agire con il proprio ritmo, garantendo i fisiologici tempi di riposo. Infine, attraverso un efficacissimo video, abbiamo voluto fornire indicazioni e suggerimenti sulle posture corrette da assumere negli ambienti di lavoro, in particolare nei casi di sollevamento o spostamento di oggetti pesanti. Tutto chiaro? Allora procediamo con il prossimo argomento. Lezione conclusa. Puoi cliccare su Chiudi per proseguire. Puoi cliccare su Chiudi per proseguire.